Dignità è la parola chiave del discorso di Sergio Mattarella alle Camere all'atto del giuramento. Più di 50 applausi hanno scandito le parole del Capo dello Stato. Mattarella ha ricordato la centralità del Parlamento e ha invitato a rispettarne le prerogative nel processo legislativo. Il Presidente della Repubblica ha chiesto la partecipazione di tutti alla ricostruzione dell'Italia dopo la pandemia. Il valore guida deve essere la dignità nella tutela del lavoro, nella difesa delle donne per dare opportunità ai giovani superare le diseguaglianze sociali. Terminata la cerimonia all'altare della patria Mattarella accompagnato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi è rientrato al Quirinale a bordo della storica Flaminia scoperta, escortato dai corazzieri a cavallo. Lungo il tragitto il caloroso saluto di cittadini e turisti. La persona deve essere al centro sempre. Papa Francesco invita a prendersi cura delle persone tutelando la dignità e l'incolumità di ciascuno. Ricevendo in udienza il personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano, Bergoglio ha ricordato chi ha dato la vita in silenzio anche in questa pandemia. Se ne sono andati sul lavoro, se ne sono andati in silenzio, ha aggiunto il Pontefice, ma che non rimangano mai in silenzio nel nostro cuore. Il ricordo avvenga sempre con gratitudine. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato oggi l'uccisione di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, indicato come leader del gruppo Stato Islamico. L'uomo sarebbe stato colpito a morte nel corso di un raid delle forze speciali americane nel nord-ovest della Siria. Biden ha aggiunto che nell'operazione non ci sono state vittime americane. Stando agli attivisti e ai soccorritori della Siria Civil Defense, un'organizzazione nota anche come White Helmets, nel raid sono rimaste uccise 13 persone, tra le quali minori e donne. Serve un patto per la transizione ecologica del settore auto, lo chiedono i sindacati e le imprese. Fiom, Fim, Wilm e Federmeccanica lanciano l'allarme su migliaia di posti di lavoro a rischio e chiedono al Governo di mettere in campo interventi immediati e strutturali. Il settore ha un fatturato di 93 miliardi, pari al 5,6% del PIL. Vi operano oltre 2.000 imprese e 180.000 lavoratori. Intanto continua il dialogo avviato dalla Ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali sulle pensioni. La CGL ribadisce la richiesta di una riforma strutturale che permette il pensionamento dopo 62 anni di età o con 41 anni di contributi.